Ciao, ma che fai? Controllo se ho tutto con me. Stai partendo per un viaggio? Sì, vado in una zona dove entrare è molto difficile. Davvero? E dove vorresti entrare? Voglio assolutamente entrare nella zona bruciagrassi. Ciao amici, oggi vediamo insieme i 10 migliori sport bruciagrassi, più un bonus segreto che pochi conoscono, ma è super efficace. Oh Simona, io dovrei farli tutti e 10, devo bruciare grasso dappertutto. Non solo tu, è così per molti. Sentite qua, il sito Men's Fitness ha condotto un sondaggio tra i suoi lettori e ha scoperto che il 43% degli uomini preferisce avere un fisico equilibrato nel complesso, piuttosto che un solo gruppo muscolare pompatissimo e il resto del corpo, così così. E anche per noi donne le statistiche sono simili, quindi gli allenamenti che vi faccio vedere oggi servono a tenere in forma tutti i muscoli e a sciogliere i grassi in tutti i distretti del corpo. Poi se volete lavorare su un aspetto specifico come le cosce o i fianchi potete seguire i training di Serena, li trovate nella scheda cliccabile con la piccola i qui in alto e in descrizione. Ah grazie, ne ho sempre bisogno, non vedo l'ora. E se li volete vedere anche voi amici mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. A proposito, se avete una parte del corpo su cui vorreste lavorare di più, sempre nella scheda cliccabile, qui in alto c'è il sondaggio dove potete chiedere a me e a Serena quale allenamento volete che vi faccia vedere. Mettete un attimo in pausa il video e partecipate subito, votate mi raccomando, così poi le faccio vedere i risultati e li dico anche a voi in un prossimo video se siete curiosi. Squaletto dice che ha votato le pinne. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al sondaggio. Ora vediamo i 10 migliori sport brucia grassi che fanno anche fare un allenamento completo. Grazie a tutti. 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 video con i vostri amici e sui vostri social e nei commenti raccontatemi anche dei vostri allenamenti bruciagrassi e dei vostri progressi per essere sempre trendy e sani con simona vignali naturalmente io vi aspetto al prossimo video ciao ah beh quello brucia parecchie che ho pensato o me la